150 cavalli supero qui, lui è stato il mio trattore da quando avevo 12 anni più che demolirlo o rottamarlo per comprarne uno nuovo ho pensato di rinnovare lui e vediamo cosa ci fa sentire, nella prima tirata è stato molto performante vediamo qui nella seconda ce l'ho di il vecchio stile puoi partire quando vuoi? basterà a centro non è altro che non è il vecchio stile a dentro fuori è però pronto senti che roba